6.500 chilometri da percorrere per la quarta missione di solidarietà dei Bikers for Life di Fano. Mercoledì mattina dalla porta della Mandria i motociclisti Giovanni Giommi e Giovanni Marino partiranno per una nuova avventura. Dopo le destinazioni in Polonia, Romania e Tunisia, questa sarà la volta dell'Armenia nel cuore del Caucaso. Un'impresa notevole che ha l'obiettivo di consegnare all'ospedale pediatrico dello Yerevan attrezzature sanitarie di vario tipo fornite da medici e aziende, alcune camuffate da giocattolo per non spaventare i bambini. La donazione è stata da parte del dottor Claudio Ciccoli, dell'ecografo, il dottor Mario Di Lena ci ha donato altra attrezzatura sanitaria, sfigo manometri, fonendoscopi, eccetera, eccetera. L'omeo 6, materiale sempre per pazienti diabetici, in questo caso di natura pediatrica o addirittura neonatale, che non tutti gli strumenti sono in grado di farlo, quindi anche il costo è decisamente elevato. Dopodiché la Schnell ci ha dato un contributo e una donazione economica e la Renco ci ha supportato logisticamente la Yerevan per notto e cene per i partecipanti. Nonostante le missioni all'estero, i bikers non dimenticano l'Italia. In programma, dopo la donazione a cash avvenuta domenica scorsa all'Orfanotrofio Santa Rita, a maggio ci sarà quella per l'Istituto dell'Antoniano di Napoli, l'ultimo giorno dello stesso mese. Poi parteciperanno a Fanno, città da giocare 2015, dove in occasione dell'evento Viale Gramsci verrà chiuso al traffico per sensibilizzare i più piccoli e la cittadinanza sui rischi dell'inquinamento e sull'uso delle strade. Siamo molto orgogliosi perché siamo venuti a conoscenza di questo importante ospedale pediatrico che versa in particolare difficoltà e quindi ci siamo subito attivati. Loro si occupano delle malattie che possono colpire madre e figlio durante il periodo perinatale. La consegna di un operato importantissimo, qual è un ecografo, ci rende molto orgogliosi perché tra le altre cose porteremo questa macchina che è importantissima e mi piace pensare che è una macchina che ci è stata donata da un molto conosciuto e famoso ginecologo fanese. Ha contribuito a far nascere molti dei nostri figli ed ora pur essendo superato dalla tecnica moderna può ancora dare tantissimo in quei paesi molto meno fortunati di noi. ecco.